Sì, I keep it cage, but I can't control it. Pronto! Pronto! Prontone! Pronto! Pronto! Chi è? Boh! Siete andati a prendere un po' di oro? No, perché? Cosa stai vedendo? Sto vedendo un pillar infinito di oro? No, no, no. Sono stato mezz'ora in caverna ieri notte. Figa! Ho fatto 38 diamond ore e questi di oro. Bene! Bene, 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 bene. Come va la farm di canne qua? E guarda tu stessa. Quella a sinistra l'ho già svuotata, l'altra invece è ancora piena. Porca te la ma funziona benissimo. Infatti adoro. Tu mi hai detto fanno due, secondo me fa poco. Ma quando è che andiamo a far fuori il tempio marino? Oggi! Sarà figo? No, non è vero. Perché no? Oggi facciamo fuori quel bastardo? Chiedo il drago. Abbiamo bisogno di un supereroe che lo faccia per noi. Abbiamo bisogno di un supereroe? Sì, io non lo faccio. Dick, qual è un supereroe lituano? Lo so, qualche tizio barbuto con la vodka in mano, lo so. Praticamente vi chiederò gentilmente di incantarmi i secchi con gli axolotl. Cioè incantarmi, cambiargli il nome. Ok. Dacci. Aspetta eh, sono tutti qua dentro. A man of the midnight. E come lo devo chiamare? Non lo so, puoi scrivere anche... Ma mica il secchio? Ma non devi prendere l'axolotl? Devi prendere la targhetta. No, no, col secchio. Metti dentro il secchio e ti modifica. E quello chiamo? Si modifica il nome. Sei sicura? Sì. Posso dargli il nome che voglio? Ma non gli dai il nome in testa? Sì, tutti i nomi che vuoi anche per scegliere. Quali chiesti nome? Sì, sì. Non importa. A me stai sbagliando qualcosa. Vedi? Vediamo se ha cambiato il nome. No, ha cambiato il nome sul secchio sì, ma tiralo fuori. Vedi? Ah, so, devi muco! Non funziona, hai visto? Ok, bisogna fare con tutti quelli che ci sono qua dentro. Ah, io però dopo li già modificati li metto dentro un'altra shulker qua. Ok. Dove vanno in modifica? Ma, 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 ma! Dio! Come sono? Ma, 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 ma c'è l'armatura tra l'altro? Sì. Ma come cazzo fanno ad uccidermi con due colpi? Ah, forse dovrei prendere un'altra in culina, non so se si rompe quella. Riii! Eh, dimmi, dimmi, no, io pure sto facendo. Guarda! Sono ritornata. Ciao! Vediamo i nomi. Aspetta, aspetta, Vic! Certo, casoglio! Uno, due, tre, quattro. Non quello, scimmia! Compagnia da vivo è una cosa, ma venerdì tredici preferisco... Guarda che oggi stacco a luna, quindi. Beh, vediamo dall'altro lato come facciamo da cinque. Però vabbè, se proprio... Ehm... Ma da buca come al solito. No, no, ho dato buca, non ho mai confermato. Ma da buca come al solito. Devi impiccarti? Cinque. Mentre mi mandi un Reels? Uno, due, tre, qua. Mando una patatina della tristezza. Tan 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 tan. Sì, però, sarebbe bello che anche voi costruiste un pochino. Ma guarda, Vic, noi adesso... Vieni su sotto adesso subito a fare la nederita e noi costruiamo, dai. Noi adesso abbiamo fatto queste cose per far sì di essere a posto e quindi, vedi, noi saremo tutti qua, tutti e tre, full nederiti e potremmo costruire beatamente felici. Yes. Ma come sono belli, sono un po' statici. Questa piscina è bruttissima. No, no, sono a 43. Fa un po' schifo, sì. È veramente ovigilante, cioè, non è che... No, perché non riesco a mantenere me stesso, figuratevi. Cos'è che non ti piace? Sentiamo una critica. Allora, ti metterò in atto subito tutte le critiche. Allora, il bordo piscina fa schifo. È proprio di un contrasto merdoso. Poi il fatto che si è rialzato rispetto alla piscina fa ancora peggio. Poi, la pavimentazione full ghiaia, con queste cose allungate così, fa veramente un'atmosfera di merda. Poi la parete della piscina è tutta quanta la nederra, che è peggior materiale marino mai esistito. Ma non è... Il fatto che sia tutta quanta completamente allo stesso livello di profondità fa vomitare. Penso che sia tra le formazioni di piscine più schifose. Poi perché qui è così angolare, cubica, mentre da quella parte è tutta frastagliata. Ma invece... E chi l'ha ideata veramente ha il cervello che li fa coi cordonblè. Che bella questa casa di Gianco che troppo viene giù. Oh, sì. Gato, gato. La casa di Gianco fa boom. Andiamo. Ma funziona la farm comunque? Sì. Funziona, funziona. Che cosa abbiamo rubato? Cosa abbiamo rubato? Eh, io come faccio a sapere cosa avete rubato? Ma non abbiamo rubato niente, ma vedi che siamo disgraziati. No, ragazzi, voi fate finta di essere disgraziati? Vick, dacci via, ti prego. Via. No. Non abbiamo rubato niente. C'ho 62 livelli. Allora, fa che non ti chiappo, Gianco. No, no, fermo, fermo. Aiuto. Fermo. Che cosa avete rubato? Guarda l'inventario, non c'è un cazzo. Se ci dite cosa avete rubato, non vi facciamo nulla. In quella casa di merda non c'è nulla. Che cosa devo rubare? Scusa? C'ho 62 livelli. Se vuoi tu non giochi stasera. Qual è la casa di merda? La tua. Vai. Vai, vai, vai. Allora, Gianco. Muso, 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 muso. Vai, fermo, 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 fermo. No, no, io so non essere che ha il comando. Guarda in alto, muso, guarda in alto. Ok. Ho preso il vuolo, Dio. Allora, non abbiamo rubato niente. Ma ogni volta entrate e rubate qualcosa, sono sicura di questo. Ma perché dovremmo rubare qualcosa? Ma che cosa c'è da rubare che mi serve? Vado a prendere la cena, torno a FK. Eeeh, va bene. Sta tornando? Sta cadendo, sta cadendo. Si è tuffato in piscina? Dov'è Nova, dov'è Nova, dov'è Nova, dov'è Nova? Dov'è quella merda? Nova è andato a FK a mangiare l'insalata. Quindi fammi capire, voi con questi due blocchetti siete riusciti ad andare a mangiare tutte quelle pecore. È vero. No, 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 ma guarda che... L'abbiamo fatto con il bon meal, ma sei l'incitrullito. Guarda questo piccoletto che mi guarda. È il bon meal, dove l'hai preso? No, no, fermo! Guardalo quello piccoletto, mi sta fissando! Che qua è una sub di livello 1, non colpire. Oh, oh. Eccoci qui. Poi cos'altro vuoi fare? Ehm... Ma in realtà sto costruendo un po' a cazzeggiando, sto provando a fare cose, quindi nulla in particolare. Poi, vabbè, poi quando si farà la torre vedremo. Io voglio fare una torre anche. Hai like it, hai like it. Servono fiamme. Serve... Servono luci. Sai che figata sarebbe... No, ho trovato di nuovo la farm di Creeper di Junko. La userò subito. Cazzo, quasi quasi mi vado a prendere l'ultimo magnum che è rimasto di là. No, ragazzi, dai. Ho sentito la tristezza. Come per dire, ok, va bene tutto, però fino a una certa. Esatto. Fanno male i piedini? Brothers, io quest'anno al Games Week incontro uno che ha un cosplay o qualsiasi cosa. Mi facciamo uso, facciamo una foto, io faccio bullismo davanti a 10.000 persone. Adesso non lo fai. Dio, vado... Beth! Beth! Sfidami vecchio, ti prego! No, no, non ce la faresti a uccidere un fan. Ma io voglio ucciderla. Hai trovato un'elitra? Certo. Nice! Ma si trova veramente così in fretta con l'elitra? Sì, voli in giro. Fai voli! È vero, non hai bisogno di toccare nulla. Voli e trovi la nave lì, come si chiama? È una volitica. Ah! Ora prendo pure un'altra testa così sotto diventa simmetrico. A casa. Perché c'è solo una testa che mi sta portando il sistema nervoso. Opa là là. Eccola qua. Abbiamo... Che stiamo facendo? Io sono ferma a pensare alla mia vita adesso. Se andare in bagno o no. E cos'altro devo fare? Non lo so. Sto pensando. Cos'è che stai pensando? Al bagno. Albano! Sì, anche. Perché non posso. Ma quante armature abbiamo qua? No, sono cose che comprendo. Miau! Vic, non lo fare mai più. Ma male che hai fatto quel buco sulla scrivania, me lo passa. No, vecchio, bastava un tempo per amatite, vai Serena. Oh, no, raga. Ma le candele si possono colorare, eh? Tipo da candela bianca può diventare di un altro colore? Sì, sì. Da grandi candele derivano grandi responsabilità. Eh, immagino. Ma di che fastidio che sei! Perché? Non potrai dire ste cagate! Ma le potrai mai dire! Da grandi candele derivano grandi responsabilità! Ma c'è la ridere! Ma sti, ma non ha senso! Ma perché il suo cervello deve elaborare una roba del genere? Ma ci stavano! Ma che cazzo! Diamanti, oro, sì, cazzo, soldi! Soldi e puttane! Muso, non è che spendi tutti i tuoi soldi? Vuoi fare il più ricco del cimitero? Oh, quella è una barca! Chi soldi avrei io? Che non lo so! Miardario! Miardario! Lo so! Ok! Ma stai sicuri di parlare con me? Eh beh, c'è solo tu qui che si chiami Muso! Muso il riccone! Io quella parola non so dirla! Il più ricco! Il più ricco, sì! Il re di Riccione! Muso il bomber! Sono a due litri! Mi cazzo ha 40 anni! La maglia di... Che si chiamava? Di Di Bala! Devo andare in bagno! Non c'era neanche bisogno di urlarlo ai 4 venti! Non penso fosse necessario! Ma puoi sempre farlo! Non c'è problema! Ma io devo andare al bagno! Porco! Sapete dove posso trovare lo strumentopolo misterioso? Oh! No! Quello era il culo di Totorino! Oh!